Lorenzo Urciullo, che già era stato leader del gruppo Albanopower, rappresentante del progetto The Last Merendina e del trio Tempestine e successivamente parte delle Progetto Santiago insieme ad Alessandro Reina, Amor Fu, nel 2010 lancia il progetto Solista Colapesce per la produzione dell'ep Colapesce. Il nome scelto per il progetto è un riferimento alla siciliana leggenda di Colapesce, rielaborata in occasione dell'ep d'Angelo Orlando Meloni. Il 27 gennaio 2012 esce per 42 Records, distribuzione Audio Globe, l'album di debutto, dal titolo Un meraviglioso declino. L'album viene registrato a Lecce e a Milano e vanta la collaborazione di numerosi artisti, tra cui Giuseppe Sindona, Toti Valente, Albanopower, Francesco Cantone, Già Tellaro, Alessandro Reina e Roy Paci. Con questo album, Colapesce vince la targa Tenko 2012 come migliore opera prima. Dall'album è tratto il singolo satellite interpretato da Colapesce insieme alla cantante. Napoletana Meg, sempre con la cantante napoletana affronterà nel periodo di gennaio-febbraio 2013 un tour di otto. Date dal nome Vipolare Tour 2013, in aprile esce il video di Talassa, colonna sonora dell'omonimo documentario di Gianluca Agati. Nello stesso 2012 si aggiudica il premio Fuori dal Mucchio, assegnato dal mensile Il Mucchio Selvaggio, per il migliore esordio. Sempre nel 2012 collabora con i Liguri numero 6 nella canzone Un Mare. Contenuta in Dioce, nel gennaio-febbraio 2013 intraprende un tour di otto date con Meg, accompagnati da Alessandro Quintavalle e Mario Conte. Il 25 gennaio 2013 pubblica per 42 Records un doppio CD dal titolo Un meraviglioso Declino Deluxe, contenente 32 brani tra cui l'inedito Anche Oggi si dorme domani. La versione di Satellite cantata con Meg e il brano Talassa per la prima volta inciso. Il 5 marzo 2013 viene pubblicato il video di Anche Oggi si dorme domani. Diretto da Giacomo Triglia, collabora inoltre col supergruppo Il Fratello nell'album Cosa che il mio mondo non ha. Il 27 novembre 2014 pubblica il suo nuovo singolo Maledetti italiani. Il videoclip del brano è realizzato dal collettivo catanese Gronzoranges con la regia di Zavo. Nicolosi, il 7 gennaio 2015 viene annunciato il nuovo album Ego Mostro in uscita il 4 febbraio. Il secondo singolo estratto dopo Maledetti italiani è l'altra guancia. Il disco è stato prodotto dallo stesso Colapesce con Mario Conte.